Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video Se non avete mai visto prevedere il futuro su Fortnite In questo video vi posso assicurare al 101% che lo vedrete ragazzuoli Non avrete mai visto, penso che non l'avete mai visto una cosa del genere E neanch'io, questa è la prima volta Quindi vi auguro una buona visione, una buona visione oggi di Slessia Portomiglia E vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non lo avete fatto Attivate la campanellina così almeno quando vedete in live faccio dei video ovviamente Carico di video, vi arriva la notifica Un bacione immenso dal vostro DarkHouse92 E noi ci vediamo alla prossima Bella ragazzuoli, divertitevi col video, mica è bellissimo raga Woo! No, I was so Te lo dico Sì già davvero Il mio scritto Mi busta con... no, mi carri a la partita con 20 kill Ti giuro la ricarico, te lo dico E ti dai per me Tu vuoi tu? Oh, oh, oh Non si fottono le cosiddette Non si tuba Se lo io la vuoi, non vado a prendere il pompa del nonno Eh, grazie Da questa cassa farò uscire una pozzata 50 Volete vedere? Eccola qua Non ci credo No, be Tieni Angelo, per te Oh, sempre Pure nella partita che abbiamo fatto a Pinnacoli L'abbiamo vinto Ho detto E ci ero vicino io Da, come una trappola Una trappola Eh beh se ce l'hai No Guarda cosa di regalo io Guarda Dark Dark È con un po' del nanno blu Ah, è sopra quella casa lì Di sopra Adiamo Dark Udini Ah, ma mia Altra che Udini D'acqua Si sboccia Dark Asciutto Buono Da quell'aerdrop Raga Uscirà Il Barrett Leggendario In casa Esce Guarda se ti siete Veramente Modana E mi sa che non ci arriviamo Che forse lo prenderà qualcuno Prima di noi Siete pronti Al Barrett Leggendario No 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 Per me C'è Prone Io vedo Ragazzi Sbaglio Stanno anche Possendo Perché Io vedo Le costruzioni Non è possibile Che non c'è nessuno Pronti Non ci credo Non ci credo Regà Mi ha messo il Barrett Oddio Regà Il Barrett Leggendario È davvero uscito C'è Angelo Che non ci crede C'è Angelo Che non ci crede Regà Io mi sto sentin male Grazie Le buscevo Quella La finitura Vai Siete pronti 3 2 1 Andiamo Devo fare pure la missione La Fettina GG Che regà Questo qua Gli faccio Il non scopo Adesso Mi stanno sparando Vai 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 Ci andiamo Direttore Qua Stanno qui Stanno qui Oh Duvio No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Fattolo Scoff No 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 oh 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 puoi trappare cosa cazzo no no madonna mia rega ma che ho fatto madonna mia oh rega andiamo in lobby adesso ve lo dico il bello è che l'ho detto rega qualunque cosa dico la faccio ma che è allora ho detto adesso uscirà la forza da 50 ed è uscita ho detto adesso uscirà il barrette leggendario ed è uscito poi prima di usare la fenditura ho detto adesso gli faccio no scoop col col barrette io ho fatto no scoop col barrette no scoop headshot col barrette c'è lasciato che proprio è in delirio oh mio dio oh mio dio guarda rega vi giuro è una roba assurda ma che è oggi porco due guarda io un tanto scarto mi metto la rega non mi mettete mai alla prova eh perché se dico una cosa succede no 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 no